Ciao Fiorellini, oggi facciamo col telefonino e si sentite a parlare, un pochettino ci sta Nicola, mia nipotina, che è venuta a fare video spesa con noi, oggi faccio prima me, sempre sì, ok adesso inizia la sigla e poi vi faccio vedere, soltanto penso con le scritte le vedete, allora esco, devo comprare la memory card con la fotocamera Vieni la sigla, bei capelli, domani me li toglie Ecco Fiorellini, Fiorellini sono ritornata, adesso iniziamo con la spesa, allora, qua le fette biscottate, soltanto purtroppo le dei aroescio perché devo andare a comprare la memory card Mi sono comprata la tinta e purtroppo questa qui è senza ammoniaca e per ora mi faccio la tinta senza ammoniaca così mi si sono ripresi tanto Me la fa Rachele perché domani mi vado a fare i capelli così ho la tinta già fatta Poi c'è Certosa, dei galbani e tre, che te lo devo passare Rachele? Ancora? Mi guardo a sistemare Passiamolo a Rachele perché così metto a posto subito e questa è per fare la barba a guerrino, eh? Si Poi sono andata al negozio ho visto che ho aumentata la carne pure 6 euro e 34, tacchino E il vitello non l'ho comprato perché costava 12 euro solo due fettine e mi sono comprata le braciole di collo di suino 8 euro e 10 Costa tantissimo il vitello, è aumentato il vitello Le mascherine che oggi ho visto con una bella sorpresa che dentro del negozio non servono più le mascherine Era ora! Poi, ah, questo è il cogelatore Questi qua, come si chiamano? Ah, i cavolfiori Che tanto tempo non li mangio, però questo è il cogelatore questo E il pesce Pure il pesce Poi, gli spaghetti La pasta è rimasta a zero proprio E queste qui Sono 3 1 euro e 46 Poi I funghi Che lo posso mangiare pure come verdura E E Da mangiare a lui Al gatto Ok Mia nipotina ha detto vai Si abitua pure se faccio i video E Le altre fette biscottate Le prende il guerrino queste perché Purtroppo Io le mando solo 3 Abbiamo comprato le rosette che io le metto dentro le bustine e le metto dentro il cogelatore E quanto ci servono le tiriamo fuori Rimangono nuovi Nuovi Novi Rimangono buoni e presti anche come ho appena comprato Ecco Ecco la pasta 1 2 3 3 Va via il colpo raggede Devo a maravento 3 4 Lo scontrino lo vediamo dopo In giro la fotocamera e vi faccio vedere il prezzo perché ora state incontrato voi vedete Io la metto a dritto però un'altra Però siccome si sta con la fotocamera con il telefonino E Voi vedete a rovescio le scritte Io compro a me una memory card Se oggi andiamo in qualche parte me la compro a memory card E Questa E Pure il formaggio Lui ma Costava Più di un tiro Vagava 15 euro Mo 700 grammi Ok Vi prendiamo un'altra busta Comunque un aggiornamento Ragazzi mi ha detto da dirvi Che non è che gli fa male il cuore Ma Si è chiuso il frigorifero Gli ha una botta qua Così non vi preoccupate che solo Questo L'ho comprato nel cuore Perché mi piace tanto Io prima Quando avevo il mio suocero La compravo e glielo portavo sempre A mio suocero questo A mia suocero c'era una pizza Gli piaceva E E Mo lo compro un guerrino Ecco Altro pane Metterò dentro il coccelatore Poi Poi Ancora pane Panchetta Casottella A tartufo L'ho pagato io Eh Lo l'ho pagato io Eh Lo l'ho pagato io La tua questa roba Ah L'ha pagato Rachele Latte 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 Eh Pancetta 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 Mia nipote che ti vedi E non fa pagarlo Latte 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 Questo che è? Il zucchero Il zucchero è buono Il zucchero è buono Il zucchero è buono Mi piace tutto Sapia Meno male Zucchero Si è bucato lo zucchero Oh Si è bucato lo zucchero Poi Quasi sono tutti affettati Allora Questo è Il prosciutto cotto Da alta qualità Maguro Uno Due 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 Poi Il prosciutto Crudo Uno Due Tre Quattro Cinque E Sei Qui si è cascato il zucchero Forse Lecce aveva rubato il formaggio Veramente Quelli Questo Questo Mi devi rubare Che Quella mia Questa è una, poi due e un'altra, il salame e un altro salame. Che è che non ti piace a te? Ti piace tutto? Un, due, tutto buono, tre, cinque, salame, un altro, due, tre, salame. C'ha una fame, sapi? Questa è la fame da mangiare, non so. Questa è diventata cicciottella? Eh. C'è guancione? C'è guancione. Sare vero che diventa guancione? Non andano a tagliare a nessuno? Non andano a tagliare a nessuno. Salame. Molta. 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 A certosino senza lattosio, fa meno male. Non so, ma è il mio amato. Questa è la spaccherella di torino come cade tutta la pastica. Che lav spegnete qua. Ahi, eccomi! Mia nipote si fa 6, 7, 8 e sa contare. ok ci sono le ultime due buste e poi dopo c'è quella di Giacchieri li ha preso il mattichino carne che dobbiamo tagliare e metterla dentro il coccinatore ora sto a fare l'esagerata ecco fa l'esagerata Giacchieri fanta c'è la fanta bella bella buona buono mi fa dire perché dice sempre buono tutto l'altro carne a carne ti piace? a ciccia? che non ti piace? ma tutto ti piace ti piace tutto? buono questo che è? tonno buono non è tonno? non è tonno da nonna non è tonno da nonna oggi è un video diverso due tonni buone tonni buone tonni ma non è tonni è buone tonni l'altro carne e lei la mette per Nicola perché è un maschio e la mette per il pedito e mozzarella buona? buona? buona buona tonni queste invece sono due mozzarella senza lattosio 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 e questo è accettosa senza lattosio facciamo l'ultima pasta e poi questo picchio è finito dopo facciamo quello di da bere ma poi dove sa? mi sono comprata fette biscottare il mellonino bianco barilla di marto e l'orzo questo è per me qua c'è stata altra pasta una eh c'ha fame aspetta faccio il video e poi mangi due tre 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 quattro cinque sei finita finita Nicole poi ci ero comprata le banane l'ha detto prima Nicole togliate guardino che si scorda la manià invece questo va a scappare il bagno te tanto lo so che tu pisellini non so più dove metta roba e formaggi e allora questa è proviera a me piace la proviera buona buona poi questa è assiago e questo è assiago abbiamo l'olio uno ecco grazie ecco poi io aiuto due aiuti eh ah tre oggi poi pomodoro 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 perché non ti piace a te pomodoro pomodoro due due tre tre pomodori tre e ultimo pomodoro ok noi prendiamo lo spottrino domodoro quanto pow sto facendo così perché se no si vede la nicotina ecco è andata via e adesso farò un altro video perché c'è la stessa di Raquel e lo vedrete un altro giorno io adesso vi lascio, ciao al prossimo video mega pazzo